Mi sono rivolto a Rossini TV per promuovere la mia attività, il mio centro, è nata questa bellissima collaborazione da ormai quasi un anno e posso dire che sono molto soddisfatto di questo rapporto con la TV, con lo staff, con i tecnici e tutto questo bel lavoro che abbiamo fatto a partire dal programma Salute Benessere per poi arrivare alla trasmissione una ruota tira l'altra e quindi con questo spaziare in campi diversi ha riportato al centro un bel ritorno. Quindi spero che questa collaborazione possa andare avanti in un prossimo futuro, vi aspetto di nuovo per cercare di creare e promuovere qualcosa insieme. Fisio Radio Center, il benessere, parte da qui. Fisio Radio Center, il benessere, parte da qui. Grazie a tutti.